A qualche giorno dall'apertura della vendita dei biglietti per i concerti della perdonanza numero 730 già sono andati a ruba per alcuni spettacoli, gettonatissimo quello di Achille Lauro ma anche Ipù. Particolari problemi non si stanno registrando nell'acquisto. Tutto è pronto per questa edizione che partirà il 23 con la serata inaugurale, per la quale l'ingresso sarà libero. L'avvio della perdonanza avverrà con l'accensione del bracere sul palco del Teatro del Perdono a Colle Maggio da parte del Sindaco dell'Aquila. Alla cerimonia di accensione seguirà l'evento di apertura Un Canto per la Rinascita. Sarà presentato dalla conduttrice televisiva Lorena Bianchetti e vedrà il contributo di tanti artisti The Colors, Malica Iane, Cola Pesce di Martino, Tiro Mancino, il tenore Gianluca Terranova e il grande ritorno di Renato Zero accompagnati dall'orchestra sinfonica del Conservatorio Casella. Per le persone con disabilità ci sono una serie di accortezze sia per i parcheggi che per l'acquisto dei biglietti a un euro sia per loro che per gli accompagnatori. Per tutti gli altri eventi previsti presso il Teatro del Perdono, Piazza Duomo e la Scalinata di San Bernardino, il prezzo dei biglietti varia da un massimo di 40 euro a un minimo di 10 euro. La piattaforma per acquistare, Ciao Tickets, ci sono ancora alcuni posti per alcuni concerti. Tutti gli spettacoli sono organizzati con posti a sedere con la specifica di settore, fila e posto numerato, eccezione fatta per il concerto del 26 agosto in Piazza Duomo, fruibile e con posti in piedi. All'ingresso degli spettacoli i biglietti potranno essere mostrati in formato cartaceo o sul supporto elettronico. I bambini che non hanno compiuto il terzo anno di età e che restano in braccia ai genitori non saranno obbligati a mostrare il biglietto. La città si prepara così a vivere la sua festa più importante che come sempre avrà numeri significativi anche perché all'Aquila già è presente un discreto numero di turisti.